Io volevo solo dire una cosa, che ottiamolamente mi dicono, ma per spronarmi, che io sono un illuso, perché non riconosco che ho una malattia, la malattia che impone certi limiti, allora mi dicono che sei illuso. Ora, quello che vi chiedo, magari me lo direte voi dopo, se stasera non è una realizzazione, altro che illuso. Ho fatto due dischi da quando ho questa mattina, volevo solamente dire questa cosa, non aspettate che vi capiti una cosa un po' sgradevole. Io giocavo a palacanestro, ma c'ho la mattina, cammino con la stampera, ma a me non mi importa niente, perché sono vivo, perché posso amare, perché posso sfruttare. Non riferimate mai, non mollate mai la presa a questo che è il regalo più bello che noi abbiamo avuto, che è la vita. Credetemi che è un regalo meraviglioso. Grazie mille.